In un primo tempo dalle poche emozioni sono sostanzialmente due le occasioni per Fratres Perignano e Coiopelli, una a testa. La prima al decimo minuto di gara a favore dei Biancorossi grazie alla punizione di Cavallini rispinta con i pugni da Borghini. Alla mezz'ora squillo anche per il Fratres di Dalbo con doveri che dalla distanza manda alto sopra l'incrocio dei pali. Nella ripresa sono invece diverse le emozioni da registrare. Al 52esimo Pennini per il rosso-blu, grosso e mezzo per Sciapi che di testa clamorosamente non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Risponde la Coiopelli al 60esimo con il raso terra di Passerotti intercettato senza troppi problemi da Borghini. Al 69esimo i padroni di casa del Fratres lamentano un fallo di negro su Di Paola, lanciato a rete, non sanzionato dal direttore di gara. All'87esimo bravo Passerotti per i Biancorossi ad anticipare Ctella servito sul secondo palo da campo e in aria di tapin vincente. Quando ormai mancano pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare, il Fratres riesce a passare in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da campo è Di Paola ad insaccare in rete la palla del momentaneo vantaggio. Un paio di minuti in pieno recupero, il Perignano ha l'occasione di raddoppiare con Pennini che non approfitta dei suoi tutti soli in aria di rigore e spara oltre lo specchio della porta. La Coiopelli incassa ma non demorde. Al 94esimo colpisce il palo con bene Ricetti e un minuto più tardi, grazie al calcio di rigore concesso per un fallo di Falleni su Andolfi, riesce a ristabilire la parità con Cavallini proprio dagli 11 metri. Nella seconda frazione dei tempi supplementari, i ragazzi di Marcelli e Falivena approfittano di un calcio piazzato per raddoppiare e mettere in cassaforte il passaggio alle finali nazionali. Dagli sviluppi di un angolo è infatti negro a beffare Borghini per l'1-2 finale.